Erano appena usciti dall'abbazia di San Leonardo dove avevano finito di assistere ad un concerto di musica sacra e stavano attraversando la strada al buio per andare a prendere l'autovettura quando sono stati travolti e uccisi da un'auto in corsa. E' accaduto ieri sera intorno alle 22 sulla statale 89 Garganica che collega Manfredoni a Foggia. Un gesto imprudente che è costato la vita di una coppia di coniugi manfredoniani. Il conducente dell'auto, una Renault Megane con a bordo una famiglia, neppure si sarebbe accorto della presenza della coppia sulla carreggiata. L'impatto è stato devastante, i due sarebbero sbalzati a circa 40 metri di distanza sull'asfalto. L'uomo alla guida del mezzo che li ha travolti si è fermato per prestare soccorso. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari a bordo di un'ambulanza del 118 ma non c'è stato nulla da fare. I due infatti sono morti sul colpo. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per accertare l'esatta dinamica dell'incidente.